Brevissimamente le associazioni presenti possono presentarsi e se qualcuno lo vuole, visto che è un'occasione unica questa, si può fermare un momento per una concertazione italo-svizzera su quello che attende la città di Como e la vicina Svizzera per la prossima primavera e per la prossima estate. Quindi se vogliamo possiamo fermarci un momento, almeno qualcuno di ogni associazione che ha tempo per scambiarci qualche idea e qualche prassi possibile operativa.